Con alfabeto Astorielle scopri le lettere e impari a leggere con il metodo dei tautogrammi. L'elefante Enrico indossa un elmo elegante. Il topo Tony torna tranquillo nella sua tana. Il dromedario Dino dorme su una duna del deserto. Ricostruisci l'alfabetiere, leggi le storie dedicate a ogni lettera, scopri le parole e associale alle immagini. Con alfabeto Astorielle sviluppi l'intelligenza linguistica. E tu, di che intelligenza sei?